Un nuovo appuntamento con la nostra pagina sportiva edizione che apriamo parlando di Arezzo. Prosegue la preparazione del cavallino sul campo dell'Arezzo Training Center a Rigutino. Domenica 28 luglio i ragazzi di Mr. Troisi affronteranno la Juve Stabia nella prima amichevole della stagione. Il fischio d'inizio è previsto per le 17.30 di domenica 28 luglio. Sul manto erboso del centro sportivo Francesca Gianni a Roma si disputerà la prima amichevole stagionale del cavallino contro la Juve Stabia. Dopo il test in famiglia intanto all'Arezzo Training Center sotto la guida del preparatore atletico Maurizio Pecorari i ragazzi di Mr. Troisi stanno proseguendo il lavoro. Quella di domenica sarà una partita dalla quale il tecnico potrà trarre alcuni spunti ma è sicuramente ancora presto per completare la trasformazione della squadra plasmata secondo i dettami del nuovo allenatore. Ancora presto per porre la parola fine sulla campagna trasferimenti a Maranto. Il mercato ha avuto inizio lo scorso primo luglio e si concluderà il prossimo 30 agosto. In attacco manca ancora l'ultimo innesto. Intanto sono 16 calciatori confermati in organico. In uscita il terzino Samuele Zona. Dal calcio maschile a quello femminile con Margherita Santini, una nuova giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile. Esterno, classe 2004, è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina con una parentesi di un anno al Florenzia San Gimignano. Oltre al ruolo di esterno, sia offensivo che difensivo, Santini è in grado all'occorrenza di ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. Una calciatrice che va a rafforzare la rosa disposizione di mister Leoni e va ad aggiungersi ad altri due recenti acquisti, il difensore centrale Beatrice Bruni e il portiere Viola Bartalini. Andiamo adesso in Valdarno dove sono iniziati i test fisici per la San Giovannese. Mister Bonura soddisfatto del mercato in entrata anche dopo l'arrivo del difensore centrale Santeramo. Quella del Gavorrano, la panchina nella quale ha seduto di più, mentre la San Giovannese, una delle sue tante squadre da calciatore, era il 2001 e la sua attuale panchina. È iniziata ieri, la settimana di test fisici per i biancoazzurri, che con il neo-mister Bonura dà il via ad una stagione tutta nuova, con una squadra completamente ricostruita da zero. Lunedì poi, l'inizio della preparazione vera e propria. Intanto, nelle scorse ore, ufficializzato un gran bel colpo per la società. È arrivato infatti il difensore centrale di grande esperienza Salvatore Santeramo. Per lui, 184 presenze all'attivo in Serie D e 12 in Serie C. Difensore, dotato di fisicità ma anche di buona tecnica, proviene dalla Fezzanese. Sarà lui chiamato a gestire la difesa per la prossima stagione. Intanto, è arrivato anche Tommaso Pertici, classe 2005. È una quota e quindi potrà essere utile da schierare, vista l'obbligatorietà di almeno tre giocatori titolari nati dal 2004 in poi. Lui, esterno destro, proviene dalla primavera della Pistoiese. Adesso la squadra sembra davvero formata. Potrebbero servire ancora forse due o tre pedine, ma la struttura alla partenza della stagione c'è. Il calcio ci porta adesso in Alto Tevere con Jacopo Giuliani, nuovo giocatore dello Sporting Club Trestina. Il centrocampista Mancino è inserito nella rosa a disposizione di Mister Calori. Nel corso dell'ultima stagione, Giuliani ha totalizzato 23 presenze, segnando due reti. Classe 99, originario di Sarzana, il centrocampista Mancino Jacopo Giuliani vestirà la maglia dello Sporting Club Trestina. Il DS Santino Podrini piazza il colpo con l'arrivo della nuova pedina da inserire nello scacchiere di Mister Simone Calori. Nel corso dell'ultima stagione, Giuliani ha totalizzato 23 presenze, segnando due reti. Durante la carriera, il calciatore ha giocato due stagioni con il Ponte d'Era in Serie C, con 37 presenze complessive. Prima ancora, ha vestito la maglia dello Spezia, dove è stato un pilastro della primavera. Rimanendo sul calcio Tifernate e Sponda, Città di Castello, la squadra bianco-rossa lunedì 29 luglio inizierà la preparazione a Palazzo del Pero. Agli ordini di Mister Mario Palazzi. Al lavoro, per completare la rosa, Giorgio Contu, direttore sportivo ex Arezzo Calcio. Ed entra nel vivo l'avventura olimpica con l'evento sportivo ospitato a Parigi, la tradizionale cerimonia di apertura dei giochi. Proprio a Parigi, nel 1900, durante la seconda edizione dei giochi olimpici, l'aretino Enrico Maria Brusoni, ciclista su strada e corridore specializzato nelle gare su pista, vinse l'oro olimpico. Brusoni ottenne il prestigioso risultato in pista nella gara a punti. La medaglia gli venne assegnata 80 anni dopo, post mortem, perché solo da pochi anni il CIO gli ha riconosciuto quella vittoria. Brusoni nacque ad Arezzo nel 1878, ma morì a Bergamo nel 1949. E veniamo adesso all'atletica con tre ragazzi dell'Alga Atletica Arezzo in pista ai campionati italiani Juniores e Promesse. L'importante manifestazione è in programma fino a domenica, 28 luglio, a Rieti e vedrà confrontarsi i migliori giovani del panorama nazionale che dopo aver centrato la qualificazione vivranno l'emozione di competere per il tricolore nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Particolari attese sono orientate verso Nicolas Gavagni, che gareggerà nel salto in lungo. Poi il gruppo di Aretini farà affidamento su Riccardo Cincinelli nei 110 ostacoli e su Federico Rubecchini nel salto in alto. E questa era anche la nostra ultima notizia. A tutti voi dunque grazie per averci seguito e buon continuazione con i programmi di Teletruria.